e ciao a tutti ragazzi qui mi chiamiamo il vostro povero youtube di quartiere e oggi voglio tentare l'impresa disegnerò tutti i pokemon creati e questa sarà la prima parte ci saranno non so 10 parti forse in questa prima parte disegnerò i pokemon quelli della prima generazione ovvero dall'1 al 151 però ci saranno comprese anche le mega evoluzioni e le gigamax quindi saranno un po di più godetevi questa prima parte con i pokemon di canto e al momento non li colorerò rimarranno in bianco e nero me lo direte voi più avanti se conviene colorarli però all'inizio mi concentro a disegnarli tutti 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 tutte le generazioni e gli episodi non so quante ogni quanto usciranno dipende dal mio tempo un po' di più Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Don't... call... come... ... 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Siamo a circa 4 ore Siamo a 4 ore di disegno Pokémon E siamo al 44 Gloom Ecco qua il primo L'altro qua Tutti poca Siamo arrivati al 73 Tentacouin Grazie per la visione 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 Mettete like se vi va Iscrivetevi Condividete e noi ci vediamo in un prossimo video